ExoratX, benvenuti! Oggi vi presentiamo questa stupenda C3. Qui la troviamo con un motore benzina 1.2 PureTech 110 CV. Allestimento Shine Pack, l'auto come potete ben vedere è di colore nero con un tettuccio bianco. L'auto è lunga esattamente 4 metri, ha un'altezza di 1,47 m e una larghezza di 1,75 m. Si tratta di una vettura manuale con 27.000 km l'attivo. Andiamo a visionare lo splendido bagagliaio, molto molto comodo e ampio. Qui abbiamo addirittura 300 litri di capienza. Bellissimi interni molto molto comodi, molto molto comfort all'interno di C3. Troviamo attacchi ISOFIX adatti a tutte le famiglie. I sedili come potete vedere sono in tessuto colore grigio scuro e grigio chiaro nella parte centrale. Qui abbiamo uno schermo touch con possibilità di connettersi con le varie app, quindi Apple CarPlay, Android Auto e anche il Bluetooth. Qui possiamo regolare il clima in maniera automatica all'interno dell'abitacolo, abbiamo i comandi al volante, possiamo abbassare e ad alzare il volume, parlare con il viva voce. Qui dietro invece abbiamo il cruise control con il limitatore di velocità. cerchi in lega diamantati del 17, guardate che belli. La nostra C3 la potrete trovare sul nostro sito in vendita, perciò venite a trovarci www.ratix.com. Alla prossima!